Viterchimica è un'azienda di Suisio, in provincia di Bergamo, fondata da mio padre nel 1967, che si occupa di produzione e commercializzazione in Italia e oggi in circa 70 paesi del mondo di additivi per bitumi e tecnologie per pavimentazione stradale. Il senso di questa iniziativa è il fatto di condividere con dei colleghi, degli amici, la nostra esperienza. Questo credo che sia la base dell'attività di ogni imprenditore, il confronto, lo scambio e quindi la crescita. Un'occasione per poter incontrare altre realtà industriali, condividere le esperienze, trovare delle soluzioni e poi portare in azienda delle idee nuove e anche applicare qualcosa che si è visto funzionare. Ho visto delle tecnologie applicate notevoli. Non pensavo che ci fossero degli studi così approfonditi su cose che al pubblico possano sembrare elementari. Sono rimasto favorevolmente impressionato dal numero di paesi in cui esportano i loro prodotti, quindi porta a casa un'ottima visione di quello che è i Terchimica oggi. È fondamentale uscire dall'azienda. Io lo dico sempre, non si può restare chiusi e bisogna sempre confrontarsi perché l'ambiente intorno a noi si modifica in continuazione e quindi è assolutamente necessario che qualcuno dall'azienda esca e vada a confrontarsi con i suoi colleghi perché sempre qualcosa si porta a casa di positivo.